Laio, 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 la Palagianello, piccolo paese della provincia di Taranto, definito da me il paese dei balocchi dove sono cresciuti tanti artisti come me che hanno avuto diciamo terreno fertile per poter coltivare i propri sogni. La mia passione per la musica nasce da bambino, insomma, fin da bambino era attratto dalla banda, dalla bassa musica. Crescendo ho cominciato, oltre che a guardarla la musica, a farla. Ho cominciato a suonare con la banda, poi ho cominciato a frequentare il gruppo folk, il gruppo teatrale e poi piano piano mi sono dedicato sempre di più alle percussioni. Io suonavo con Antonio D'Acosta che faceva musica latinoamericana, pensate un po'. Poi dopodiché la cosa mi stava un po' stretta e sono partito, sono andato via, sono andato a Roma lì a fare un'accademia di spettacolo, l'Accademia di Pino e Claudio Insegno. Grazie a tutti.